Ciao amici del toro! Siete pronti per una giornata stellare? Oggi gli astri sono decisamente dalla vostra parte. La luna splende nel vostro terzo campo, quello della comunicazione, della vita sociale e della creatività. Avete un progetto indipendente in ballo? Oggi l'immaginazione sarà la vostra migliore alleata. E per quanto riguarda l'amore? Navigazione tranquilla. La luna nel sesto campo porta stabilità e armonia nelle vostre relazioni. È il giorno perfetto per tuffarsi in discussioni appassionate su temi che vi stanno a cuore. Sul fronte lavoro le prospettive sono solide, soprattutto se siete nel mondo degli affari. La comunicazione scorre fluida, ampliando la vostra rete di contatti. Seguite le regole e le procedure per assicurarvi il successo in ogni iniziativa. In amore. Oggi è all'insegna della serenità e della tranquillità. L'amore vi accompagna come un caldo abbraccio quotidiano. E con l'arrivo di Marte in campo, preparatevi a esplosioni di passione e intensa sensualità. Sentite che la fortuna è dalla vostra. Il vostro impegno sta dando i suoi frutti, toro, e ci sono ancora più sorprese all'orizzonte. Continuate a spingere e le stelle vi ricompenseranno. Ci vediamo alla prossima, amici astrotili. Restate stellari!